Del corso mi è apposta molto la semplicità del metodo che viene proposto in contrasto invece con la complessità e la pesantezza delle situazioni sulle quali si va a lavorare. Infatti con un metodo molto semplice si riesce a risolvere, a sciogliere alcuni blocchi, alcune situazioni complicate che non credevo si potessero risolvere con un metodo quasi banale. Lo consiglierei perché penso che quasi tutti abbiamo nella vita vissuto alcune situazioni difficili e che non abbiamo del tutto risolto, magari alcuni ne sono più consapevoli di altri, ma penso che bene o male chiunque abbia qualcosa su cui lavorare. E quindi questo è un metodo che un po' a 360 gradi ti può dare qualche arma in più per affrontarlo. Quindi mi porto a casa un sistema che posso utilizzare tutti i giorni da solo, senza aver bisogno comunque necessariamente di essere seguito e con questo sistema penso sia un sistema completo che appunto applicandoli io possa poi utilizzarlo anche in futuro. Me ne renderò conto poi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Sicuramente ho lavorato su diversi temi, visto che poi l'argomento era le relazioni, su diversi temi importanti per me, però appunto me ne accorgerò poi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane quello che sono riuscito a fare. Ringrazio moltissimo Patrizia che è sicurata una persona fantastica e con un cuore gigantesco. Ringrazio moltissimo Patrizia che è un po' a 4